Ciao Stefano Beauty Community, oggi voglio mostrarvi un make-up dal sapore glam sui toni del viola, ma assolutamente preta portè. Per andare a regalare tridimensionalità al make-up vado a rutilizzare il blush Chic to Chic di Charlotte Tilbury nella colorazione Entence e un blush dalla texture quasi cremosa che va a regalare istantaneamente un effetto boomin all'incarnato. Grazie a tutti Per completare il make-up occhi ho scelto di utilizzare la palette Sound Vibes di Urban Decay, una palette dalle tonalità ispirate ai colori delle pietre preziose. Per il make-up delle labbra ho scelto di utilizzare The Slim Glow Matte, il nuovo lipstick di Vselleran che conferisce alle labbra un finish tutto nuovo Comfort Matte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.